Quindi, Hornet 2-1, qui Jester 1-1, confermiamo volo 2F-15-4A per la sezione, pronti a neutralizzare le contraeree. Ricevuto Jester, procedete. Bersaglio individuato, Fox 3, Fox 3. Risposta letale. Hornet 2-1, siete autorizzati a ingaggiare, in buco al lupo. Qui Hornet 2-1, ricevuto. Qui 2-2, ricevuto. Qui Rino 2-3, ricevuto. 1-2, ingaggio. Ricevuto. Fuoco, fuoco, fuoco. Fuoco, fuoco, fuoco. 2-2-2-1, effetto sul bersaglio positivo. A tutti i cecchini, qui McTavish, pronti all'ingaggio. Stabilizza. Ricevuto. A tutti i cecchini, ingaggio autorizzato. Spostarsi a destra. Procedo. Mobilizza. Pronto. Via in versaglio. Spostarsi a destra. Procedo. Vedo quattro nemici nella torre seguente. Ero i morti. Shepard, i caccia devono cessare subito il fuoco. Ci è mancato davvero poco. Cercherò di farvi guadagnare un po' di tempo. A questo punto un pigioniero in un gula che non vale molto per la marina. Dannazzi a merino. Pensavo fossero loro i buoni. Gas, basta parlare, i tanki pronto. Secondo andate in arrivo. E nei primi voli. 10 piedi. Qui, 2-1, sto aterrando. 4-1, spagnata. Vai, vai, vai! I cinque treni all'antano del fornire il fuoco di copertura da cecchino. Cinque treni, qui, 2-1, ricevuto forte e chiaro. 2-1, in posizione per ingaggiare. Ricevuto 2-1, disegnazione Versailles a secondo piano. Ricevuto, disegnati sei tanto. Ingancio imminente. Ricevuto, disegnati sei tanto. Contatto vicino al muro basso, sopportito finato. Sto andando. Sto in strada, è lassù, continua a muoverti. Targeted, 12 o'clock. Trevuto, inseguimento Versailles in corsa. Sto andando. Sear jet! Contacto, 11 o'clock. Rissevuto! Inspegno al massacro in corso! Stando a terra! Ci siamo. Entriamo, grindiamo il PN127, andiamo via. Affiliato, disordiamo lanta! Buona sala a domande assurde. Come andiamo a brasso. Le Kundera! Benzoni! Scioglite, dame qua. Ricevuto! Buon prestagio! Accederò al sistema per cercare il nostro uomo. Ci vorrò un po' di tempo. Ricevuto! Non puoi trovare un po' di tempo. Non potete stare. Venga! È la vuota! Bene, sono collegato. Ora vi seguirò tramite le telecamere di sorveglianza. Ricevuto! Ha individuato l'attività del prigioniero 627. Negativo. Ho attivato un proiettore da ricerca sul vostro piano per indicarvi nemici e rendervi la vita più facile. Ricevuto! Occhi aperti! Il prigioniero potrebbe essere in uno di queste cellule. Sto a me. Cazzo! Ci blocca una porta di sicurezza. Aprile! Riprovo! Questa è ferraglia di un secolo fa! Benzoni! Atta, guarda qua. Ricevuto! Rimarete in attesa! Ce l'ho fatta! Ricomento, chiamo! Rimpel! Amico, in bordo alla sala! Mi do la porta nella cella! Ho contato! Scena di quadro vuota! La cella è vuota, avanti! Dimmi qualcosa, ghost! Queste celle sono deserte! L'ho trovato! Un prigioniero 627 è stato trasferito all'ala est. Passate per un'armeria al centro! È la strada più veloce! Ricevuto! Squadra! Dirigetemi verso un'armeria al centro! Muoversi! Vedi qualcosa di buono? Cattive notizie! Rilevo 3, no 4 squadre nemiche in convergenza verso la vostra posizione! Andiamo, siamo troppo sposti! Sì, è un'armeria al centro! Ghost, apri la porta! Merda! L'hanno bloccata col protocollo d'emergenza! Dovrò aggirarlo! No! No! Attenzione! Altri nemici diretti verso di voi! Si ha più copertura! Prendi uno scudo antisommotta! Opre la porta! Ci sono quasi! Sto passando per il circuito ausiliario! Via, via! 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 Via lo scudo per attirare il foco nemico! Apre! Nemico in fondo alla sala! Tito alla porta della salla! Per traggio scontorso! Per traggio l'altro amministrato! Bighost! Vi consiglio di passare per i piani inferiori calandovi da quella finestra! Ricevuto! Rogi, seguimi! Capitano Mestavich, ultimo piano a posto! Vi raggiungiamo a pieno terra! Nessun segnale dalla telecamera della cella di isolamento! Credo manchi la corrente! Ricevuto! Squadra! Passare al visore notturno! . Sì! Sì! Chi è al visore notturno! Sì! 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 veloce il tattino e sovi movimento messaglia in vita e sovi messaglia neutralizzato la marina non ha molta voglia di discutere adesso rimanete in attesa bravo sei per ora hanno cessato il fuoco proseguite vi terrò informati passo e chiudo battaglio alle nostre ore ultime via 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 sto andando le vecchie docce sono a circa 9 metri sulla sinistra sfondate il muro per entrare piazza una carica esplosiva sul muro prendiamo la scorciatore non sulla porta piazza la carica esplosiva sul muro guardatevi e contatto alle nostre ore 12 ricevuto lo vedo nemici a secondo piano fateli fuori imparatevi che roglie A presto! No, siamo nelle vecchie gallerie, direzione sud, su dove? Ok, continuate a seguire la galleria. E qualcosa, Ghost, voglio essere ancora qui quando le navi riconceranno a sparare. Andate avanti, ci siete quasi! Rilevo due fonti di calore, una dovrebbe essere il prigioniero 627. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Allora! Sì, 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 sì.